benvenuti su claudio masci.com in questo video andremo a vedere un software che ho consigliato spesso nei commenti ma per il quale non avevo ancora fatto un video o un articolo sul sito web e quindi ho deciso di parlarne adesso questo software è a adv cleaner che è sviluppato dagli stessi autori di malwarebytes ma si occupa di un aspetto leggermente diverso rispetto a malwarebytes quindi non va a rimuovere virus o malware dal computer ma è specifico per software che rallentano il computer quindi hardware, toolbar, tutti quei programmi che non sono veri e propri virus quindi non sono bloccati dagli antivirus non vengono considerati virus ma che in qualche modo possono rallentare il computer aprire più processi quindi rimanere aperti, avviarsi all'avvio, rallentare l'avvio del computer modificare le impostazioni dei browser quindi cambiare l'home page del browser cambiare alcune impostazioni per farlo funzionare in maniera diversa da quella che dovrebbe essere quella standard quindi diciamo questi programmi che non essendo virus comunque possono creare un po' di problemi al nostro sistema operativo prima di vedere il funzionamento rapidamente quindi download e installazione si può scaricare gratuitamente dal sito web it.malwarebytes.com.advcleaner comunque troverete il link sul mio sito quindi se state guardando il video da youtube in descrizione link articolo e lì trovate il link diretto a questa pagina qui possiamo vedere alcune impostazioni quindi che cosa fa la cosa importante è che non si installa quindi si può scaricare ed avviare direttamente quindi procediamo con il download in questo caso è importante cliccare sul tasto download gratuito presente qui e non su download gratuito qui in alto perché questo ci andrà a scaricare malwarebytes quindi per scaricare advcleaner dobbiamo cliccare su quello all'interno della pagina una volta scaricato possiamo avviarlo come detto non va installato quindi avviamo semplicemente il file eseguibile all'avvio potremo avviare direttamente la scansione ma se vogliamo andando in impostazioni abbiamo alcune impostazioni che possiamo andare a regolare quindi ad esempio possiamo scegliere se usare il database cloud quando disponibile che è assolutamente la scelta migliore perché così avrà sempre un database più aggiornato possiamo inoltre andare a scegliere alcune azioni di riparazione cliccando sul punto interrogativo possiamo vedere cosa fanno quindi una breve descrizione di ognuna di queste impostazioni ad esempio è possibile ripristinare il firewall di windows quindi magari ci sono alcuni programmi che ci disattivano il firewall andando ad attivare queste impostazioni verrà riattivato ovviamente fate attenzione perché se avete programmi cioè se utilizzate un firewall esterno potrebbe creare dei problemi quindi questo funziona solo se utilizzate il firewall di windows si può scegliere di rimuovere alcune chiavi di ripristinare alcune impostazioni della configurazione della connessione di rete quindi magari se ci sono problemi con la connessione potete scegliere di ripristinare dei dati se ci sono dei problemi con le installazioni con i file di installazione di windows potete resettare windows installer quindi avete diverse impostazioni come impostazioni di base vengono eliminate le chiavi di tracciamento e viene ripristinato winsock andiamo su generale e clicchiamo su scansione per avviare la scansione al termine della scansione ci dirà il risultato con tutti gli elementi trovati nel mio caso mi trovo un elemento PUP quindi un programma potenzialmente indesiderato quindi qualcosa che potrei non aver installato io e cliccando sulla freccetta posso vedere che cos'è quindi mi dice che è un'estensione per Firefox e l'estensione si chiama Onei che praticamente è l'estensione che applica i coupon sui siti web quindi applica gli sconti quando vengono trovati gli sconti per acquistare online questa estensione viene considerata potenzialmente indesiderata perché spesso si trova già preinstallata su alcuni PC quindi magari quando acquistate un PC già assemblato quindi con Windows installato con dei programmi installati potreste trovare già questa estensione installata inoltre ci sono alcuni programmi che quando vengono installati installano delle estensioni per i browser tra cui questa quindi se non l'avete installata voi se non la conoscete potete rimuoverla qualsiasi elemento venga trovato da DVCleaner vi basterà cliccare su quarantena in questo modo verrà rimosso e verrà inserito in una sezione in uno spazio dal quale non potrà fare danni quindi viene appunto messo in quarantena viene bloccato e rimarrà sul computer finché volete poi andando sulla quarantena potete decidere di rimuoverlo completamente quindi se dopo aver bloccato questo file notate che il PC effettivamente funziona meglio che non ci sono danni che non ci sono problemi potete tranquillamente rimuovere tutto quello presente in quarantena e quindi rimuovere definitivamente tutti questi elementi che sono stati trovati per concludere diamo un'occhiata anche alla quarantena quindi andiamo in quarantena qui troviamo gli elementi che sono stati messi in quarantena in precedenza possiamo selezionarli o tutti o selezionarne uno o quello che vogliamo e scegliere se ripristinarli o se eliminarli definitivamente quindi clicchiamo su elimina e in questo modo li abbiamo eliminati definitivamente dal nostro sistema in conclusione ADVCleaner è uno strumento a mio avviso molto utile che vi consiglio di avere sempre perché vi permette occasionalmente di effettuare una scansione quindi andare a vedere se ci sono dei programmi o delle modifiche che possono in qualche modo rallentare il vostro sistema operativo quindi vi consiglio comunque di tenerlo da parte e magari ogni mese ogni due mesi ogni tre mesi fare una scansione e vedere se viene rilevato qualcosa e andarlo a rimuovere questo è tutto se il video ti è piaciuto metti like in questo modo mi aiuti a capire quali sono i contenuti che vi interessano maggiormente inoltre se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e attiva la campanella in questo modo non perderai tutti gli aggiornamenti sui miei prossimi video ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine se hai dubbi domande o suggerimenti scrivimi nei commenti e ci vediamo al prossimo video e ci vediamo al prossimo video